vittime. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Pisa, mobilità verde, nuovi parchi e infrastrutture, ma anche navigabilità del fiume. Sono alcuni dei temi cardine del convegno internazionale denominato Pisa 2050 che si è aperto questa mattina presso gli arsenali repubblicani. Pisa 2050, connessioni verde-blu per la città del futuro, è il titolo del convegno promosso dal comune di Pisa agli arsenali repubblicani ed organizzato dalla rivista internazionale Topscape Paisage, in collaborazione con Euroambiente. Un'attenzione anche poi tornando alla mobilità sostenibile di utilizzo dell'Arno come idrovia, come possibilità di utilizzo a fini turistici e perché no, in futuro proprio il professor Dringo, il nostro assessore, pensava anche a un sistema di trasporto di mobilità per i nostri concittadini. Quindi un sistema che si infrastrutturerà e poi un'attenzione anche alla linea verde, cioè i parchi urbani, il verde, tutto quello che è gli aspetti legati a un miglioramento della qualità della vita e dei nostri cittadini del 2050. Ecco, dalla sua esperienza che è sicuramente altamente qualificata, quali sono le potenzialità di una città come Pisa ad esempio? Beh, enormi, enormi nel senso che ha tutte le caratteristiche ovviamente di una città che può guardare davvero al suo futuro e trovo che questa iniziativa di rendere l'Arno navigabile e quindi di portarlo diciamo dentro la città e di riconnetterlo alla vita dei cittadini che lo vivono come una presenza che c'è ma che non sentono, trovo che sia una grande, una grande, grande risorsa e una grande opportunità non solo dal punto di vista turistico ma proprio nella vita quotidiana. La città è molto bella già di per sé ovviamente però questo potrebbe davvero cambiare un po' la visione quotidiana della città.